Signori miei, non chiederò a nessuno dei presenti più di quello che possa dare, ma voglio chiedervi questo. Siamo o no, uomini del re? Sì! In missione per conto del re? Sì! Non ho notato paura negli occhi degli spagnoli quando ci hanno superati. Siamo o no, uomini del re? Sì! Tutti ai posti, signori miei! Avanti tutta per White Cup Bay! Bevi le tionierate al punto che non ti vorrà più vedere. Shizuka! Solo che avrà effetto anche sulle altre persone, non ti detesterà solamente Shizuka! Oh no! Un sorso sarà più che sufficiente! No, 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 no! Big, non è ancora pronto! È tutta unica, sbagliata! Tutta scombinata, rovesciata! Big, la rende migliore! Big, rende tutti noi! Big, migliori! Non fate movimenti inconsulti o bruschi! Saltate nel mio becco, se volete restare vivi! Saltarti nel becco, eh? E questo come mi aiuterà a restare vivo? Mio? Perché ti posso portare da tuo figlio! Ero certo che fossi tu ad averla uccisa, Spartano! Chi altri? Vivo nel tormento a causa tua! Dopo che prendesti il vaso dal Tempio di Pandora, Zeus fu accecato dalla paura! Mi recluse negli abissi del Tartaro! Questo no, mi dispiace! Non scoprirai mai e poi mai il contenuto della mia scatola segreta! Caratterialmente tu sei un libro aperto, forse! Ma io sono un pochino più complicato! Che ci posso fare? I meccanismi segreti della mia mente contorta sono sempre stati un grosso enigma! Grazie a tutti!